buongiorno ragazze buongiorno ragazzi in realtà dovrei dire buonasera anche se voi immagino che vedrete questo video di giorno perché appunto è sera siamo nel mio bagno e vi voglio mostrare all'opera un po di prodotti che sto utilizzando in questo periodo per la skin care evito di chiacchierare troppo comincio a legare i capelli così mentre parlo ottimizziamo i tempi allora voglio mostrarvi innanzitutto come effetto la skin care diciamo lo struccaggio più che altro ogni sera però vi mostro anche in azione qualche novità del periodo così le proviamo insieme sono novità che non ho mai provato nemmeno io perché stiamo insieme stasera bando alle chiacchiere allora comincio a struccarmi con questo prodotto di anthos che è l'oleo latte che è una delle novità di anthos presentata appunto al sana mentre mi comincio a struccare vi racconto qualcosina di questo prodotto innanzitutto ve ne mostro la consistenza io erogo alcuni pump di solito faccio tre pump di prodotto quindi questo è più o meno il quantitativo vedete la consistenza è abbastanza gelatinosa io comincio a passare questo prodotto tra le mani e sul viso viso e occhi quindi tra breve mi trasformerò nel joker in diretta per voi allora questo è un olio latte e è perfetta direi come definizione perché attualmente io sto massaggiando sul viso e la consistenza ma penso ve lo vediate anche nella videocamera è oleosa vedete che proprio unta il mio viso è punto però perché latte perché nel momento in cui vado ad emulsionare con qualche goccina d'acqua questo prodotto si trasforma in un latte che quindi poi è molto facile da sciacquare via sto insistendo un pochino di più sugli occhi perché oggi diciamo che avevo un trucco un pochino più pesante rispetto ai miei standard e voglio che venga portato via tutto però vedete che il mascara è sciolto è tutto sotto non proprio tutto tutto è sciolto però si sta sciogliendo massaggio ancora qualche istante dopodiché bagno le dita inizio a massaggiare vedete che comincia già a formarsi il latte di cui vi parlavo scusate se ogni tanto guardo da un'altra parte ma ho al solito lo specchio qua dietro e quindi devo vedere un po' qui cosa sto combinando allora il prodotto si è trasformato in un latte a tutti gli effetti non brucia gli occhi nella maniera più assoluta infatti vedete che li tengo aperti li appanna leggermente questo sì però insomma nulla di terribile a questo punto prendo la mia fida spugnetta di mare la bagno sotto l'acqua e poi comincio a rimuovere tutto faccio una prima passata vado bene anche sotto l'occhio faccio la stessa cosa anche di qua in modo da portare via tutto il mascara e la matita che avevo e poi comincio a massaggiare il viso amo queste spugnette ma lo sapete perché lo ripeto in ogni video come vedete il trucco non ci trucco il trucco è tutto qua sulla spugnetta sozzissima sciacquo e faccio un altro giro allora cosa penso di questo prodotto strucca secondo me piuttosto bene qualche volta che mi è capitato di fare dei makeup un pochino pochino più elaborati magari utilizzare qualche ombretto waterproof qualcosa di un pochino più difficile da struccare ha incontrato qualche difficoltà in più quindi diciamo che su un trucco ordinario abbastanza quotidiano non eccessivamente complicato diciamo da facile a medio tranquillamente strucca senza problemi su un trucco un pochino pochino più difficile vanno fatte magari un paio di passate incontra qualche difficoltà in più però comunque globalmente secondo me è un ottimo struccante poi ripeto io difficilmente faccio trucchi chissà quanto elaborati quindi per quelle che sono le mie esigenze va alla grandissima questo prodotto a questo punto secondo step della detersione qui vado velocissima mousse mousse del periodo questa acqua presa al tigotà di Nao Bay che ormai ha gli sgoccioli quindi forse è l'ultimo video in cui la vedrete erogo anche qui qualche pump sulle mani e vado a passarla sul viso ma questo mousse già l'avete vista in azione quindi non mi dilungo sapete che è un prodotto che amo che ha un rapporto qualità prezzo fantastico che vi straconsiglio di provare date la caccia al più vicino tigotà che avete e cercate di trovarla perché davvero è fantastica come un mostro soffice cocculosa proprio piacevolissima da massaggiare ok sciacquo via tutto con la mia spugnetta e torno viso lavato asciugo al solito tampono con la mia asciuga manina non sto fino mai ma questo già lo sapete allora volevo dirvi rifarmi ad un video che vi linko qua sopra in cui vi avevo parlato già di questo prodotto vi avevo detto che era purtroppo uscito difettoso nel senso che l'erogatore non schiacciava io premevo qui ma non uscino nulla a differenza di questo cosa è successo che ho contattato l'azienda in cerca diciamo di spiegazioni chiedendo se fosse un errore mio se c'era magari un difetto da parte del prodotto se c'era qualcosa che potevo fare loro sono stati molto carini molto gentili mi hanno detto che sicuramente era un problema di packaging quindi era uscito ahimè difettoso e sono stati carini me ne hanno mandato un altro gratuitamente proprio a spese loro infatti questo qua che vedete è quello che loro mi hanno mandato quindi ci tenevo insomma a chiarire questa cosa a ringraziare l'azienda che è stata molto molto corretta ci sono aziende che non hanno la stessa correttezza nel modo di agire quindi mi sembrava giusto insomma chiudere il cerchio e raccontarvi come era andata a finire la famosa storia dell'olio latte fatto questo non vado ad applicare il tonico non ancora perché voglio fare una maschera anzi tre per l'esattezza e voglio provare insieme a voi le tre maschere di fresh di cosmetics queste qua che mi sono praticamente appena arrivate non le ho mai utilizzate quindi le vado ad utilizzare insieme a voi chiarisco che non me le hanno aggiornate l'azienda li ho acquistati io a spese mie ho acquistato proprio il pack perché le volevo acquistare tutte e tre e volevo provare tutti e tre e invece di scegliere quale fare ho pensato stasera di fare un multi masking così ve le mostro all'opera tutte e tre allora non chiacchiero troppo parto da questa verde che è la emerald quella purificante tutto si presenta così all'interno del flaconcino in vetro devo prelevare un pochino di prodotto non tanto perché voglio applicarlo soltanto nel nella zona del naso nel resto del viso voglio andare ad applicare le altre perché non voglio andare a purificare troppo il viso dato che la mia pelle è un po capricciosa in questo periodo un po infiammata un po arrossata quindi non voglio andarla diciamo a scocciare più di tanto con prodotti aggressivi questa è la quantità e la stendo sul naso profumo buono sa di frutta tipo di kiwi vuol dire che non mi dispiace per niente passo poi alla viola che è quella rilassante e lentiva che è questa qui la vado ad aprire così me la mostro aiuto e fatta così sempre una cremina soffice soffice viola prelevo un po di prodotto con la spatolina qui ne prendo un po in più perché ci voglio fare la zona delle guance che come sapete sono il mio pallone d'achille sempre rosse la passo sulle mani eccola qua e la comincio a massaggiare sulle guance infine prendo l'ultima maschera che è questa qui gialla la energizzante la mostitività mimica questa qui giallina la apro anche questa wow proprio giallo pallierino che carina allora il profumo è buonissimo delle tre è quella che è il profumo più buono sa proprio di banana di frutta sembra un cocktail di frutta buonissima anche qui prelevo una piccola quantità questa e quella viola sono un pochino più cremosine un po più molline diciamo come maschera la verde è un pochino più duretta più consistente proprio perché contiene appunto argilla a differenza delle altre due e questa qua la vado ad applicare invece sulla fronte che devo dire non è una zona grazie a dio troppo critica per me nel senso che non ho di solito brufoletti, punti neri, poli dilatati io ho una zona T un po' anomala lo so mi rendo conto però per me è così ecco fatto sono praticamente una tavolozza di colori a questo punto lascio in posa 10 minuti non di più e poi sciacquo quindi ci rivediamo tra 10 minuti eccoci qua allora sono passati circa 10 minuti oppure qualcosina in più le prime impressioni sono la gialla è morbida ma lo vedete ancora non si è assolutamente seccata la verde si è seccata perché è a base di argilla infatti sento il naso che tira un pochettino la viola è ancora abbastanza morbida però la più morbida delle tre resta la gialla sento leggermente bruciare questa zona però penso che sia dovuto alla verde che forse in questa zona andando a finire un po' in questa zona me l'ha un pochino irritata diciamo che come prima volta forse l'ho stesa io un po' male devo essere un po' più precisa nell'applicazione la prossima volta però vado a sciacquare vediamo com'è la pelle ecco qua viso è sciacquato asciugo anche questa volta con la mia solita sciocamagnina e andiamo a vedere insieme com'è la pelle allora com'è questa verde mi sembra che abbia fatto molto bene il suo lavoro io mi sto guardando nello specchio ma i pori mi sembrano visibilmente minimizzati quindi wow davvero io l'ho utilizzata solo sulla zona del naso perché è lì che ho qualche punto nero qualche poro un po' più grosso la zona della fronte è molto morbida molto molto nutrita quella dove avevo applicato la maschera viola l'ho sentito solo un pochino questa zona qui questa zona per i nasali bruciare un pochino dopo qualche minuto di applicazione però c'è anche da dire che questa è una zona che in questo periodo a me è abbastanza infiammata reattiva quindi un po' qualunque cosa ci vado a mettere la sento reagire ecco quindi questo va detto ha bruciato un pochino però la pelle non è rossa anzi le guance mi sembrano anche un pochino più sfiammate rispetto a prima chiaramente parliamo di primissime impressioni io l'ho voluta applicare insieme a voi per farvi vedere proprio come funziona come si utilizza darvi delle primissime impressioni a caldo però ci dobbiamo poi riaggiornare chiaramente devo utilizzarle bene tutte e tre e capire se mi piacciono quali o quali sono più indicate per me eccetera allora il tonico la essence si è praticamente asciugata io procedo con la mia skin care routine del periodo questa la faccio ogni sera e vi mostro il siero che sto utilizzando in questo periodo alla sera che è questo qui alla bava di lumaca di BN Biocosmetics mi sta piacendo molto come vedete sono già oltre la metà lo sto testando praticamente da subito dopo il sana ma ho iniziato ad utilizzarlo è liquido liquidissimo lo agito leggermente e faccio due erogazioni come vedete è proprio liquidissimo lo stendo su tutto il viso viso e collo massaggio leggermente ma neanche tanto perché in realtà si asciuga veramente in un nanosecondo devo dire che sto avendo ottime sto avendo un'ottima impressione di questo siero perché mi piace veramente tanto come si isura come si asciuga come mi lascia la pelle non me la rossa non me la infiamma mi sta piacendo tanto tra l'altro insomma sapete che io in generale amo la bava di lumaca come ingrediente proprio mi piace tanto quindi questo siero devo dire che mi sta dando grandi soddisfazioni in questo periodo mi sta piacendo veramente tanto procedo mostrandovi le ultime due novità che vi volevo mostrare in questo video che in realtà sono due campioncini però sono uno spoiler di due prodotti che sono praticamente in uscita proprio imminenti e sono due campioncini della linea puro bio for skin come sapete puro bio eccoli qua ha distribuito presso i vari rivenditori un sacco di campioncini da poter andare a ritirare gratuitamente in modo da poter testare i prodotti e decidere poi che tipo di acquisto eventualmente fare i prodotti poi in full size saranno disponibili dal 6 di novembre ripeto ormai praticamente ci siamo questione di pochissimo io ho voluto provare questi due campioncini la crema d'iso effetto lifting per pelle matura visto che ormai insomma la mia non è proprio una pelle più freschissima di una ventenne quindi ho voluto provare qualcosa di un pochino più corposo viviamo e la crema contorno occhi nella versione idratante anti rughe perché c'è anche una versione più leggera però siccome io tendo ad avere il contorno occhi un po' secco ho optato per qualcosa di un pochino più corposo non so come siano questi prodotti li vado a provare insieme a voi parto dal contorno occhi vediamo un attimo che cosa ne viene fuori quindi lo testiamo insieme vediamo un po' come si presenta allora io prelevo questa quantità di prodotto mi sembra abbastanza corposo devo dire per come lo vedo andiamolo a massaggiare mi sembra abbastanza ricco andiamolo a massaggiare sul contorno occhi e vediamo un attimo praticamente non ha quasi profumazione quindi è perfetto per quelle persone che gradiscono prodotti senza profumazione infatti è bello ricco devo dire che richiede un bel massaggio non è un contorno occhi fluido sicuramente è una cremina che richiede qualche secondo in più di massaggio io non ne ho applicato nemmeno una quantità eccessiva quindi ricco mi sembra ricco mi sembra un contorno occhi un pochettino più adatto forse alla sera quindi usato al mattino magari ci vuole un pochino di tempo per farlo asciugare però per la sera mi sembra mi sembra valido devo dire come prima impressione ora sta iniziando ad asciugarsi faccio un piccolo faccio un piccolo massaggio in modo da farlo penetrare meglio però si sta praticamente asciugando devo dire che come primissima impressione non mi dispiace sono infatti tentata di acquistare proprio il prodotto in full size perché è bello ricco è bello idratante insomma per la sera non mi sembra devo dire niente male lo testerò ancora questo campioncino nei prossimi giorni perché comunque c'è ancora prodotto però devo dire che come prima impressione mi piace non mi dispiace proprio per niente vediamo anche la crema viso adesso questa qua effetto lifting vediamo se non è troppo corposa perché poi io ho pur sempre una pelle mista quindi devo nutrirla senza però farla ingrassare e lucidare più del dolore la consistenza è leggermente più fluida chiaramente rispetto al contorno occhi è questa qua la vado a stendere su viso e collo devo dire non mi sembra male nemmeno vista a giudicare un compiocino anche qui profumazione quasi quasi non pervenuta non è di quelle crimine inconsistenti che non nutrono nulla però non mi sembra nemmeno una crema eccessivamente unta e pesante almeno per quello che è il mio viso è un po' corposa non la consiglierei per diciamo per una pelle mista giovane misto grassa giovane quindi la vedo più adatta per una pelle mista diciamo di una persona pochettino più grande diciamo come me ma per quelle che sono le mie esigenze non mi sembra malaccio si è quasi del tutto asciugata la sento ancora un pochino però si sta pressoché asciugando non mi sembra unta infatti non mi sembra assolutamente unto e appiccicoso il mio viso non è appiccicoso assolutamente si stende bene è abbastanza piacevole assaggiare poi ripeto non avendo profumazioni è perfetta per chi odia le profumazioni nelle creme non è il mio caso però ci sono persone che odiano questa cosa non male devo dire questi due prodotti come prima impressione dal campioncino non mi sembrano davvero niente niente male poi insomma se dovessi decidere di acquistare i full size ci riaggiorneremo e ve ne parlerò meglio bene io concludo qua questo video e sarà venuto lunghissimo come sempre spero di avervi tenuto un po' di compagnia di avervi mostrato qualche prodotto che magari non conoscevate qualche novità se avete domande sulle maschere sui campioncini su qualunque altra cosa scrivedemi qua sotto io lo sapete vi rispondo sempre e nulla spero di avervi tenuto un po' di compagnia spero che questo video vi sia piaciuto vi ringrazio e se vi va ci vediamo al prossimo ciao ciao